Allora siamo qui con un gruppo da League of Legends e siamo con Monica, Alberto, Francesco, Walter. Perché la scelta di questi personaggi? Allora League of Legends è un gioco di ruolo online, dato che noi siamo dei nerd allucinanti e giochiamo un sacco abbiamo fatto i personaggi che ci piacevano di più soprattutto magari per il costume e poi perché li usiamo cioè io uso sempre questa in particolare. Quindi è un amore per il personaggio prima dell'amore per il cosplay? Sì, di solito quando facciamo cosplay scegliamo sempre il personaggio che ci piace di più caratterialmente perché almeno riusciamo a interpretarlo meglio ecco. Ok, allora Luca come vi è sembrata quest'anno? Bellissima, quest'anno mi è sembrata veramente bella sia dal punto di vista dei costumi che ho visto sia anche per la gente che c'era in giro, ce n'era tantissima. Soprattutto perché il tempo è stato clemente con questa zona qui, essendo stato brutto prima e le previsioni del tempo non mettevano molto, molto... No, infatti noi eravamo terrorizzati perché a due settimane da Lucca davano cinque giorni di pioggia infatti eravamo terrorizzati perché non riesce a fare nulla se piove, invece poi è cambiato e quindi... Indubbiamente una giornata di questo genere qui è molto utile per poter girare, farsi foto. Da dove venite? Bergamo Io Como Milano Reggio Calabria E la dimostrazione come gli altri gruppi che abbiamo intervistato, il gruppo unisce tutta l'Italia. Sì, esatto, poi abbiamo di là gente che viene da San Marino, Morbegno, poi arriva una di Venezia, una da Teramo E quindi un bel gruppo grande, non siete tutti qui? No, no, devono arrivare, tre sono di là a fare le varie fotografie, altri devono arrivare, non si sa quando. Gruppo di? League of Legends Di quanti? Ah scusa, 13, 11-13. Parteciperete alla gara oggi pomeriggio? Oggi non c'è, ieri pomeriggio abbiamo partecipato. C'è la gara anche oggi, se volete partecipare, Japan Palace. Non lo sapevo Alle 16. Partecipiamo? Magari parteciperemo. Per bacco, direi che potete andare a partecipare, direi che come costumi avete le vostre ottime possibilità. Eh sì, speriamo bene. Sì, l'importante non è vincere, però avere un premio fa sempre comodo insomma. Diciamo che l'importante non è vincere, ma vincere non fa male. No, infatti direi che direi di no. Fate un saluto agli ascoltatori di Cosplay On Air. Ciao. Ciao a tutti. Grazie ragazzi e in bocca al lupo. Grazie. 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 Grazie.